Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, ci sono 3 km di coda per un incidente tra Calenzano e BV1 Variante in direzione di Bologna. In carreggiato opposta troviamo coda tra BV1 Variante e Calenzano, rallentamenti tra Firenze in Pruneta e Incisare Gello e tra Firenze Scandicci e Firenze in Pruneta e coda in uscita a Firenze Sud. Sulla Firenze Mare coda per traffico tra Firenze Ovest e Prato Est nella carreggiata verso Pisa. Arriviamo in Fipili dove restano code per traffico in uscita alla Strassigna per chi proviene da Firenze. Per il traffico urbano del capoluogo rallentamenti sulla direttrice porta al Prato Fortezza. Nell'ambito dei cantieri tramvia dalle 21 di questa sera alle 14 di domani all'altezza della rotatoria di via Forlanini di vieto di transito in ingresso città. La chiusura è necessaria per lavori relativi alle sistemazioni urbanistiche. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per oggi è tutto, i nostri aggiornamenti tornano domattina alle 7.30.